Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, oggi martedì grasso, giornata di carnevale, giornata di festa anche se lavorativa. Iniziamo subito la nostra lettura dei giornali partendo dalle prime pagine dei quotidiani abruzzesi, iniziamo dal quotidiano Il Centro che già vedete alle mie spalle nell'edizione di Pescara, il titolo di apertura Donna scomparsa da quattro giorni Anna Maria Tabellione, 55 anni, non è più tornata a casa, sparita anche la sua automobile. Andiamo adesso nel taglio alto, la sentenza che dà ragione a Paolucci, giudici del Tarre, è giusto ridurre i piccoli ospedali e poi premiate nove città, l'Abruzzo investe sui rifiuti 1,3 milioni per i centri del riuso. Andiamo a vedere adesso nelle cronache da Pescara, la provincia vende gli spazi ex Napolplast, tra via Breviglieri, via Ombrone e via Lago di Chiusi c'è ovunque area di dismissione, non fosse altro che per gli spazi immensi che hanno ospitato la Cogolo. Proprio in questo spicchio di città tra la Tiburtina e via Raiale, la provincia mette in vendita un'area di ben 12.290 metri quadri, tra spazi coperti e scoperti, un tempo occupati dalla Napolplast, di cui ci sono ancora i cartelli sulla recinzione. Andiamo avanti a Montesilvano, la Stella Maris risorge, fine lavori fissato ad aprile e poi Pescara, sindacati contro il Comune, polemica sui gradi da dare ai vigili urbani. Andiamo a vedere a centropagina, nella fotonotizia, l'Istituto Belisario di Pescara, studenti in pianchini e la scuola torna pulita. Questa è l'iniziativa degli studenti del plesso di via Enaudi che insieme ai professori alla preside e ad alcuni genitori hanno deciso di ritinteggiare la scuola. Verso il voto nel taglio centrale, Troilo, noi abruzzesi non saremo mai razzisti e ancora Camera e Senato, ecco le due schede con i simboli. Scendiamo adesso nel taglio basso, c'è il Buongiorno Abruzzo, scusate, di Giuliano di Tanna. Se la moglie fugge con il fratello di Gesù a Treviso, una madre ha lasciato figli e marito per seguire un santone in Brasile, ma non un santone qualsiasi, il fratello di Gesù. La storia l'ha raccontata nei giorni scorsi il gazzettino di Treviso. Tutto è iniziato nel 2008 quando moglie e marito decisero di lasciare i testimoni di Geova per farci coraggio, racconta il marito. Hanno dunque iniziato a incontrare questo padre brasiliano con madre italiana. Andiamo ancora avanti, sempre sul quotidiano Il Centro, adesso andiamo a leggere la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto, in apertura, omicidio d'Aita, 13 anni a Donofrio. Chieti condannato il giovane che prese a pugni il 52enne, i giudici, non è stata legittima difesa. Ancora la cronaca, a Montodorisio, le indagini sul delitto erisse nella casa del pensionato legato e ucciso. Una settimana dopo il delitto, sopra il luogo dei carabinieri del Rissi era a Montodorisio nella casa di Antonio Lizzi, 69 anni, trovato legato e con le costole fratturate. Le indagini seguono anche un'altra pista e il pensionato potrebbe essere stato ucciso altrove e portato a casa in auto. Andiamo a vedere nelle cronache Chieti, rifiuti, ricorso al TAR, fermo il maxi appalto, un ricorso blocca la gara da 55 milioni di euro per i rifiuti di Chieti, uno scontro giudiziario tra le ditte concorrenti sospende la procedura. Il 29 gennaio scorso in municipio la commissione guidata dal dirigente Paolo Intorbida avrebbe dovuto aprire le buste con le offerte tecniche presentate dalle quattro ditte in gara, ma la seduta è stata annullata ed è slittata, data da destinarsi. Andiamo a San Salvo adesso, negozio svaliggiato durante il Carnevale, poi Ortona, Porto, si al dragaggio tra le polemiche. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro, andiamo a vedere l'apertura della prima pagina dell'edizione di Teramo, ferito da sette coltellate, ma ce la farà, questa almeno nella sfortuna una buona notizia, tentato omicidio per gelosia a Corropoli, la comunità romena ha aiutato l'arma dei carabinieri ad individuare e catturare il responsabile. Nelle cronache, costruttori e professionisti, ritardi sconfortanti per la ricostruzione. La visita del governatore D'Alfonso, patto tra Regione e Roseto, ieri appunto c'è stata la visita nella città Teramana e poi area marina del Cerrano, prima condanna per la pesca nel parco. Adesso andiamo a centropagina, festa nelle piazze, il Carnevale di Notaresco e il Re in provincia. Resta l'unico del Terramano con una sfilata di carri allegorici, ma in altri centri domenica c'è stata una buona partecipazione, soprattutto di bambini e ragazzi alle feste di piazza organizzate da comuni e associazioni. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'Aquila, eccola qui, la prima pagina del centro dell'Aquila Vezzano sul Mona, il titolo di apertura, badante uccisa, c'è il super testimone, femminicidio di Carsoli, ha raccontato di avere visto il muratore entrare all'interno della abitazione. Andiamo a vedere anche a centropagina, nella fotonotizia, sul Mona, incendio doloso nella scuola e il secondo caso a distanza di pochi mesi nella palestra dell'Istituto Denino. Un nuovo attacco riporta la città di Sul Mona in un clima di intenzione, ieri sera le finestre del piano superiore della scuola elementare Lombardo Radice in via Togliatti sono state avvolte da un fumo intenso. Nelle cronache, l'Aquila, il comune riduce tari e tasi alle imprese, riduzione delle imposte rispettivamente del 9,3 e del 2,5 al 2 per mille decisa dal comune dell'Aquila per l'annualità in corso. Andiamo a vedere anche le altre notizie, l'Aquila precipita dalla scala grave, un operaio è ancora a rischia, la priorità sono le demolizioni. Adesso torniamo a vedere le pagine regionali, ma cambiamo testata, passiamo sul messaggero, questa è la prima dell'inserto Abruzzo, titolo di apertura, l'Aquila Pescara, lo sgambetto. Si arena in regione la discussione delle leggi su super comune e capoluogo, i tre presidenti delle assemblee civiche e il sindaco Biondi snobbano la convocazione in periodo pre-elettorale. Ancora dunque stallo per quanto riguarda il tema della grande Pescara, su cui vi ricordo c'è stato un referendum e su cui appunto i cittadini si sono espressi in maniera netta per la fusione delle tre città dell'area metropolitana. Poi Pescara posto su misure in comune, D'Alfonso sistema la super segretaria e continuerà a lavorare in regione ma avrà lo stipendio pagato dal comune. La polemica Pescara per l'incarico affidato in gran fretta a Marianna Di Stefano, da sempre donna ombra di Luciano D'Alfonso negli ultimi quattro anni di staccata in regione, inquadrata come dirigente. Andiamo a vedere adesso a centropagina, ritroviamo Rigopiano. Nessuna richiesta all'aeronautica militare, il giallo dell'elicottero mai decollato. Un nuovo punto interrogativo si aggiunge ai tanti che riguardano la tragedia. a sollevarlo un'inchiesta della TGR Abruzzo sulla mancata attivazione dei mezzi di soccorso del SAR. Ancora la cronaca, Chieti pugno fatale condanna a 13 anni per il killer di Daita Emanuele Donofrio riconosciuto colpevole dell'omicidio preterintenzionale del giornalista e dunque questa la condanna. Il pugno che mandò in coma per un anno fino alla morte Simone Daita costa 13 anni di reclusione ad Emanuele Donofrio, alla lettura della sentenza, quest'ultimo è rimasto impietrito come i suoi genitori e gli amici e inoltre è stato condannato a risarcire i danni ai genitori e ai fratelli della vittima. Il PM Giuseppe Falasca aveva chiesto 8 anni e mezzo. Sempre per la cronaca giudiziaria, tracce di sangue, Lizio ucciso sull'uscio di casa. Questo sembrerebbe il primo riscontro dalla visita dei Rissa a Montodorisio. Ieri ci sono stati appunto i rilievi della scientifica. Andiamo a vedere adesso nel taglio basso. Teramo, il caso, acqua, luce e gas salasso per la ASL. Nel 2017 la ASL di Teramo ha speso 4,5 milioni per le utenze di luce, acqua e gas. A circonvallazione Ragusa fanno sapere che se non fosse per qualche sindaco che combatte una guerra di campanili i costi potrebbero calare notevolmente, soprattutto con il nuovo ospedale. Di fatti solo per risparmiare occorrerebbe che i 4 ospedali attuali del presidio, strutture per lo più di vecchia concezione, investissero milioni di euro per esempio per sostituire gli infissi di tutti i nosocomi e delle strutture dell'ASL che sono sul territorio. Andiamo a vedere di spalla, la ventricina va a ruba, raid di ladri e bongustai, questo è un fenomeno che si sta ripetendo sempre più spesso, nuovo colpo a San Salvo si sospetta un mercato nero su larga scala di questa eccellenza del vastese. Andiamo a vedere nel taglio alto, la buona scuola a pescare agli studenti e i genitori decorano le aule, poi l'Aquila influenza, ingorgo al pronto soccorso pediatrico fino a 50 visite al giorno e poi il calcio, Pescara-Bunino fa sperare l'ira di Campitelli sul Teramo, l'attaccante di scorta si è ben inserito e si candida al ruolo di primo cambio, il patron del Teramo incontra la squadra dopo il suicidio a fermo, polemici gli Ultras che continuano la contestazione che hanno così prodotto una dura strigliata verso la squadra. Andiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo, il titolo di apertura incastrato dalla comunità romena, coltellate di gelosia l'aggressore ha cercato aiuto dai connazionali che invece l'hanno fatto arrestare. Poi vediamo sempre a centro pagina il rivale lotta tra la vita e la morte e questo è il coltello utilizzato per l'aggressione. Poi sotto la fotonotizia d'Alfonso, tre impegni per Roseto, DSB, Autoporto e Lucciola, il governatore propone un patto. Andiamo nel taglio alto e troviamo l'inchiesta della TGR su Rigopiano, si poteva tentare con gli elicotteri. Di spalla l'intervista, la Corneli sarà la prima onorevole Rosetane, poi quarta gamba teramana, noi con l'Italia pienone alla sala polifunzionale. Nel taglio basso, Casa Diavolo, a questo Teramo ora serve una soluzione curva contro Campitelli e il titolo sulla situazione rovente in casa Teramo Calcio. Andiamo adesso sui quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera in questa rapida ricognizione dei titoli del nazionale. Movimento 5 Stelle, un buco da 1,4 milioni di euro, rimborsi mancati, 10 casi, deputato si autosospende la difesa, i ladri sono altri. Elezioni, leader dei 5 Stelle, Mele Marce li cacceremo, Renzi come Craxi sul Mariolo Chiesa. Andiamo ancora avanti, andiamo al centro pagina a vedere invece la notizia del taglio centrale. ONG, la scelta di Lorenz dopo i casi di abuso che coinvolgono lo staff, il caso Oxfam, lo scandalo e i silenzi, la vice lascia e dice io mi vergogno. E poi ritroviamo il caso di Pamela, c'è il quarto sotto accusa errori sui cortei a Macerata via il questore, c'è stato appunto dopo tre mesi dal suo insediamento il cambio del questore Vincenzo Vuono ha lasciato il posto ad Antonio Pignataro, tra l'altro Pignataro specializzato proprio nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Andiamo sulla Repubblica, il titolo di apertura, rimborsi, lo scandalo scuote il Movimento 5 Stelle, buco da 1,4 milioni ricevute sospette, Di Maio dice caccerò le Mele Marce, il silenzio di Grillo, Berlusconi insegue i cattolici, abolire le unioni civili, lite sul premier del centrodestra. Andiamo a centropagina, il titolo sulla fotografia, la Iene e la bambina, la forza delle parole contro la malattia, vedete Nadia Toffa con la piccola Gabriella, la bambina di Taranto guarita dalla leucemia con Nadia Toffa, la conduttrice 38enne delle Iene che ha avuto un tumore, è tornata comunque a lavorare. Andiamo ancora avanti e ritroviamo anche il caso di Macerata, Macerata ha rimosso il questore inadeguato contro lo spaccio nel controllare i neofascisti. Andiamo sulla stampa adesso, in apertura, i grillini ammettono rimborsi gonfiati, lavoraggine arriva a un milione e mezzo, Di Maio chiama i parlamentari a Roma, via le Mele Marce, Renzi parlano come faceva Craxi con Mario Chiesa, cade un'altra testa, Buccarella mi autosospendo dal Movimento e questo è lo scandalo che si sta allargando e che sta coinvolgendo il Movimento 5 Stelle. A questo proposito c'è l'editoriale di Marcello sorgi, se l'onestà diventa un boomerang. Andiamo a centropagina, Pamela ammazzata con due coltellate e un colpo alla testa, sostituito il vicequestore di Macerata e il Viminale, ora serve una svolta ai risultati dell'autopsia, c'è un quarto indagato. A centropagina anche la fotografia, il passo indietro dei vegani, prima volta diminuiscono in Italia, crescono invece i vegetariani. Andiamo sul Sole 24 Ore, il quotidiano economico e finanziario italiano apre con le grandi opere, le infrastrutture, Trump mobilita 1.500 miliardi, questo è il piano presentato dal Presidente statunitense per gli investimenti pubblici nelle infrastrutture, il Presidente di USA svela l'atteso piano per rinnovare strade, aeroporti e vie d'acqua, da Washington, 200 miliardi, attesi investimenti locali e privati. Troviamo anche un approfondimento sul voto, il PD conta su tassi stabili, Forza Italia e Lega su Flat Tax, Movimento 5 Stelle e Leo su investimenti, qui vedete programmi e scommesse, previsioni di abbattimento del debito pubblico secondo i principali partiti, i dati sono in percentuale sul prodotto interno lordo e il titolo, vediamo di tornare sulla pagina, dai partiti ricette incerte su debito pubblico e surplus. Andiamo ancora avanti, troviamo la borsa, vediamo se riusciamo a visualizzare, ecco qui cresce il numero delle società a controllo familiare, questo è l'approfondimento appunto sulla borsa. Il fatto quotidiano adesso, in apertura il titolo, bollo auto e orari di lavoro, così decidono 10 milioni di indecisi, sondaggio del fatto, Antonio Noto, gli incerti credono di più al Movimento 5 Stelle. Nel taglio alto restituzioni, si sono tenuti la diaria, Di Maio contro altri 5 Stelle, buco di un milione di euro, oggi la resa dei conti. E poi Rigopiano, l'elicottero non lo chiamò nessuno, il testimone, potevamo salvarli, il comando disse no. L'unità di emergenza militare attiva 24 ore su 24, era a 60 minuti di volo dall'hotel travolto dalla valanga che fece 29 vittime, ma al centro operativo, dice un vigile del fuoco, preferirono non farla intervenire. Andiamo sul manifesto, il titolo sulla fotografia tradizionale, le forze dell'ordine, effetto boomerang di Macerata, spinge a destra il PD e il governo, Renzi e il ministro Miniti marciano a ranghi serrati sulla sicurezza, rivendicando la politica dei rispingimenti in Libia. In TV il segretario del PD attacca Bonino, Grasso e Di Maio. Andiamo a vedere anche il caso 5 Stelle, SOS rimborsi, Grillo in aiuto di Di Maio, breve show del Garante a Torre del Greco. Andiamo su Avvenire, il quotidiano cattolico in apertura a scuola da tutelare. Nuova aggressione di genitori a un insegnante, il ministro Fedeli dice, stoppa la violenza, si danneggia il paese, affoggia picchiato un vicepreside a Genova atto di teppismo contro un istituto dopo la vicenda delle autovalutazioni classiste. Poi troviamo il caso Oxfam, tradimento Oxfam e le ONG, casi isolati, sfruttamento sessuale a Haiti e in Chad, dimissioni a Londra con ripercussioni pesanti per questa organizzazione non governativa. Andiamo a vedere anche quel che riguarda la sanità, risultati positivi su primo paziente trattato negli USA, terapia genica aperta, la via al miracolo. Andiamo avanti sul messaggero, in apertura troviamo il caso rimborsi nei 5 Stelle, manca un milione di euro, si allarga così, il caso delle omesse restituzioni dei parlamentari grillini conferme autosospensioni, tutti convocati oggi a Roma, Di Maio dice, faremo fuori le mele marce, Renzi ricorda Craxi sul mariolo chiesa, questo è il commento del segretario dell'EPD. Andiamo a centro pagina, ben 4.600 miliardi in deficit per armi, infrastrutture e muro col Messico, Trump il piano per la Great America. E poi rimosso il questore per Pamela la pista dei rituali sacrificali, questo emerge dalle indagini sul giallo di Macerata. Sul quotidiano il tempo adesso, restando ai giornali romani, onestà, mando sta, si chiede il quotidiano il tempo, rimborsopoli e caos, buco da un milione, la Iena grillina, figuraccia però gli altri sono peggio, massoni a 5 Stelle, polemiche sul fratello in lista, il gran maestro Bisi, siamo in ogni partito. Questo è il titolo di apertura del tempo e poi il titolo con la foto di Fabio Fazio, che gioco che fa? Fabio ora vuole eliminare le slot machine ma da testimonia dell'otto prese 3 milioni di Euro. Andiamo adesso a vedere Libero, in apertura, mandano via il questore e si tengono i clandestini, prudezza del governo a Macerata, Minniti sostituisce il responsabile della sicurezza in città, soli 3 mesi dalla sua nomina, intanto nelle Marche resta Libero di spassarsela, il 75% degli immigrati irregolari e viva. Andiamo a vedere anche il titolo della verità, anche ai grillini piacciono i soldini, si allarga lo scandalo dei rimborsi, i mancati versamenti hanno creato un buco da un milione, ma pure i parlamentari 5 Stelle che si sono effettivamente tagliati parte dello stipendio, poi si sono rifatti con gli interessi grazie alle note spese. E poi la Coop di Mafia Capitale, ecco i bonifici di Buzzi che Renzi e il PD non hanno mai restituito. Sul secolo d'Italia, il titolo di apertura, fake news sinistre, una bufera per nulla, una montatura dei media per far dimenticare l'iniziativa cretina del direttore del Museo Egizio di Torino e una bufera inventata dalla stampa, la notizia che Fratelli d'Italia voglia cacciare il direttore del Museo Egizio di Torino. In primo piano nel taglio basso, Turchia ferma nave italiana e la Unione Europea fa solo il solletico. ONG, ecco nuovi scandali, la Gran Bretagna basta fondi a Oxfam e poi bravi ragazzi ma antifascisti, Stato sociale, doppia vita. Andiamo sul mattino di Napoli, adesso in apertura, il titolo Campania centrodestra in rimonta, testa a testa con i 5 stelle in molti collegi, rimborsi un buco da un milione. Gli ultimi sondaggi riservati rilanciano la coalizione di Berlusconi nel PD de Luca Junior, avanti Siani in affanno. Andiamo a vedere adesso i giornali sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, in apertura la Juventus, Pipita scaccia Kane allo stadium, alle 20.45 c'è Juve Tottenham e sfida stellare tra Iguain e il fenomeno degli Spurs. Betancourt favorito per sostituire Matuidi, Allegri dice siate coraggiosi e incoscienti perché torna la Champions con l'andata degli ottavi. Andiamo nel taglio alto, il titolo piovono baby goal, Cutrone, Caramò, Under e Fratellini, giovani talenti sulla rampa di lancio, la tendenza all'ultimo turno di campionato ha messo in vetrina nuovi personaggi nel calcio italiano. Andiamo a vedere il Corriere dello Sport, in apertura ancora la Juve, Paralo tu, Champions ottavi, Juve Tottenham e anche la sfida tra Buffon e Harry Kane. Allegri, mi tengo, Iguain e vinco. Nel taglio alto troviamo il Milan, gigante Cutrone, il Milan fa festa, nei primi sei mesi Patrick ha segnato più di Van Basten, adesso è un tesoro, l'attaccante rosso-nero è già diventato un top player. Andiamo nel taglio basso invece, i giochi invernali, oggi Arianna può regalarci un giorno d'oro e poi la Serie B, Forlia, Coronado, il Palermo crolla, il brasiliano si fa cacciare sull'1-0, il Foggia ribalta e il rosa-nero è partita finita 1-2. Andiamo su tutto sport, anche qui il titolo principale sulla Juve, Juve a Calappia, Cane, giocando con il nome di Harry Kane, stasera all'Allianz Stadium, l'andata degli ottavi Champions contro il Tottenham, il pericolo numero uno e il centravanti inglese, ma Allegri alle contromisure e Iguain, l'analisi tattica e le scelte di formazione, i segreti di questa grande sfida di questa sera. Nel taglio alto la proposta dei tifosi Toro domenica mattina, fatti benedire dal fila e poi ancora scendiamo nel taglio basso e ritroviamo il calendario delle partite di Champions, oggi Juventus Tottenham e Basilea Manchester City e poi domani le altre partite in campo anche il Real Madrid con il Paris Saint Germain in questa super sfida di Champions. Adesso noi ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con gli esperti di Meteo 6 e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, torniamo alle notizie dall'Abruzzo, riapriamo le pagine interne dei quotidiani regionali sul messaggero nella pagina appunto dedicata alla regione. L'Aquila, capoluogo e Nuova Pescara, la riunione è un flop, le leggi affossate, a vuoto e rinviate in prima commissione le audizioni dei presidenti dei consigli comunali e del sindaco del capologo di Regione Biondi. Sorpreso dell'invito Antonio Luciani, primo cittadino di Francavilla, che dice che con la fusione non c'entra nulla, come dagli torto in effetti, non c'entra proprio nulla. Pedaggi autostradali, lettera a Mattarella, Sammita Carsoli, dei sindaci in lotta contro il caro tariffe, ci appelliamo al presidente. Andiamo a vedere sul quotidiano il centro, così l'Abruzzo investe sui rifiuti e la notizia di primo piano. In nove città nascono i centri del riuso, la regione finanzia oltre un milione di euro tra i comuni beneficiali Pescara, L'Aquila, Teramo, Montesilvano e Vasto, oltre agli altri comuni che troverete sul giornale. Nel taglio basso, giuntasi all'accordo sull'immondizia da Roma, l'Abruzzo aiuta la Raggi. Trattate a Chieti 30.000 tonnellate e a Sulmona 9.000, nel primo caso è previsto anche lo smaltimento. Restiamo sul quotidiano il centro, l'Abruzzo verso il voto, sempre nelle pagine di primo piano, Camera e Senato, ecco le schede, i simboli dei partiti seguono l'ordine di estrazione ai primi posti, dieci volte meglio è il centrodestra e qui trovate appunto Camera e Senato, le due schede. Mazzocca, io mi candiderò a presidente, ho scoperto l'attuale sottosegretario della giunta regionale, poi più Europa di Bonino si presenta, abruzzesi razzisti, no grazie, parla Troilo, candidato e figlio del comandante della Brigata Maiella. Per liberi uguali, Pescara, Domenica Cegrasso, oggi a Teramo invece arriva Bersani. Andiamo a vedere sulla città la pagina Abruzzo, il titolo rigopiano si poteva tentare col soccorso aereo, seconda puntata dell'inchiesta della TGR Abruzzo sul mancato impiego degli elicotteri da guerra. NH90 e AW101 sono gli elicotteri più moderni delle forze armate esportati in tutto il mondo per le loro capacità di volare in ogni tempo. Protocolli, l'inchiesta giornalistica sfera che non c'erano protocolli d'emergenza per l'uso degli aeromobili dell'esercito e dell'aeronautica. E poi per quanto riguarda il caro Pedaggi, lettera dei sindaci a Mattarella, prosegue la protesta in Abruzzo e in Lazio contro gli aumenti sull'autostrada dei parchi dunque sulla 24 e la 25 del 12% circa. Andiamo, anzi torniamo sul quotidiano Il Centro, proseguiamo con la pagina Abruzzo. Si ha la nuova mappa della sanità, il titolo, i giudici dicono i piccoli ospedali, vanno ridotti. Il Tar dà ragione a Polucci, rispettata la legge, la sentenza sul caso San Massimo di Penne diventa un precedente. Secondo il Tribunale emerge evidentemente che il commissario ad acta, agito nel rispetto della normativa nazionale vigente, le facoltà della Regione, gli enti devono bilanciare interessi diversi, contenere la spesa e assicurare le prestazioni sanitarie adeguate. Per quanto riguarda invece l'eliso scorso, resta ancora senza verricello. La polemica, lo ricordiamo, era già uscita lo scorso anno. E poi la nuova Pescara fumata grigia a Regione, la settimana politica si è aperta e subito chiusa con la fusione dei comuni. Andiamo a vedere adesso la pagina di Pescara sul messaggero. Il titolo di apertura lavora in Regione, paga il Comune. Marianna Di Stefano sarebbe dovuta tornare a Palazzo di Città. Forza Italia trattenuta in sole 24 ore con un incarico ad hoc. La dirigente da sempre ombra di Luciano D'Alfonso, ora si occuperà dei finanziamenti regionali per la città. E poi, tempi rapidissimi, la richiesta di distacco è dell'8 febbraio, l'assegnazione porta la data del 9. Ritroviamo anche qui Rigopiano, quell'elicottero mai decollato sull'inchiesta della TGR, il mancato intervento del quindicesimo stormo dell'auro inautica e l'ultimo mistero dalla protezione civile, accuse alla Regione. Nel taglio basso, altra notizia di cronaca, donna fugge nella notte, ricerche a Bolognano, preoccupazione per Anna Maria Tabeglione, 55 anni, di cui non si hanno più notizie. Da venerdì si è allontanata da casa attorno alle 4.30 a bordo di una Renault Clio vecchio modello rossa e non è più tornata in ansia il marito e i due figli. Restiamo sempre sul messaggero, andiamo a vedere le altre notizie da Pescara. Artistico anche di fatto, il belisario decorato da studenti e genitori, armati di rulli, pennelli e vernici, hanno rinfrescato le aule e gli spazi comuni in occasione del cinquantesimo anniversario dell'Istituto. Poi rifiuti, 200 multe con le fototrappole, più videosorveglianza per la sicurezza in questa lotta ai furbetti. Ancora camera di commercio via libera ad Angelucci. Entro 15 giorni la convocazione del Consiglio per eleggere l'imprenditore alla presidenza lasciata vacante dalla morte di Daniele Becci. Restiamo sempre nell'area metropolitana di Pescara. Nessuno studio sugli effetti dei veleni, non solo cancro, a bussi sono almeno 10 le patologie gravi correlate all'inquinamento industriale, ma l'indagine fu bloccata. Caduto nel vuoto il tentativo di Cristina Gerardis, all'epoca direttore della regione, avvocato dello Stato nel processo. Scendiamo adesso per vedere le altre notizie. Sfilano i nipotini di Ruccio, che festa città Sant'Angelo per quanto riguarda il Carnevale. Oltre 500 persone da tutte le contrade. Poi Solenghi e Lopez, Show, Tutte Saurita, Circus e Smarrita e Petruzzi, il meglio del teatro. Andiamo sul quotidiano Il Centro, nelle pagine di Pescara. In apertura, viaggio nella città che non va, via Breviglieri, periferia da Terzo Mondo. La zona è nel degrado, ma la provincia prova a vendere l'ex fabbrica Napol Plast, la base d'asta di 1,4 milioni di euro. E poi, la regione ha finanziato in tre anni opere pubbliche per 172 milioni. Gli uffici dell'ente guidato da D'Alfonso scrivono all'amministrazione comunale. Ecco i fondi erogati fino ad oggi per gli interventi. Dipendente alla regione, accuse da Forza Italia, il caso della segretaria del presidente D'Alfonso, abbiamo già visto in precedenza. E poi, la città della musica verrà completata. Blasioli replica al centro-destra, ci sono i soldi per fare i lavori, ora faremo partire la progettazione. Poi, di fida dei sindacati e l'amministrazione comunale di Pescara, vigili scontro sulla assegnazione dei gradi. Andiamo avanti, verso il voto del 4 marzo, contributi alla natalità e reddito di inclusione. Antonella Allegrino, candidata per il PD alla Camera, svela il suo programma e dice lavorerò anche per ridurre le tasse e far crescere gli investimenti in Abruzzo. Gli studenti del Belissario fanno bella la loro scuola per festeggiare i 50 anni, abbiamo già visto anche questa notizia in precedenza. E poi, tre carnevali a confronto alle 16 sfilano le maschere, corteo dal Palazzo della Provincia fino al Museo Casa Natale d'Annunzio, previsti anche un dibattito, una monstra inveglione e il gran ballo degli specchi per quanto riguarda le manifestazioni di carnevale. Nella pagina di Francaville dell'area metropolitana, attività in plurinegozio, via libera dal comune, varato il nuovo regolamento che consente ai proprietari e affittuari dei locali commerciali di avviare vendite con abbattimenti dei costi. E poi oggi il gran finale del Carnevale d'Abruzzo, chiuse tutte le scuole a Francavilla. Scendiamo nella pagina, San Giovanni Tietino, da meglio il segretario generale, sempre da San Giovanni, premio alla mascherina più bella, oggi la festa del Carnevale nella palestra della Scuola Media Galilei. Proseguiamo con la pagina di Montesilvano, andiamo allo Stella Maris, pavimenti, scale e ascensori. La Stella Maris risorge sopra il luogo della provincia nel cantiere avviato a ottobre. Di Marco dice, tabella di marcia ampiamente rispettata, si finisce entro il mese di aprile. Andiamo ancora avanti, nella pagina della provincia pescarese, scomparso una 55enne si è allontanata con l'auto, Anna Maria Tabellione ha fatto perdere le tracce da venerdì e poi all'anno non slotti il Comune approva la mozione contro la ludopatia. A cappelle sul tavo, ferri, scrutatori, critiche a tempo scaduto. Nel taglio basso, crono scalata, stop ai sabotatori, popoli, riparte il lavoro organizzativo dell'associazione e quelli delle svolte. Proseguiamo con la pagina di Chieti, adesso sempre sul quotidiano il centro. Omicidio d'Aita, 13 anni a Donofrio, condannato il giovane che è presa a pugni il 52enne, i giudici, reazione punitiva, non è stata legittima difesa. Questo per quanto riguarda il delitto di piazza Vico. E poi nel taglio basso, ricorso al TAR, ferma l'appalto dei rifiuti, scontro tra le ditte, la formula ambiente impugna l'ammissione delle concorrenti. Ancora avanti, nella pagina di Vasto troviamo l'omicidio di Montodorisio. Antonio, forse il corpo trasportato in auto sopra il luogo del RIS nella casa del pensionato a una settimana dal delitto, l'uomo potrebbe essere stato ucciso altrove. Ieri appunto sono arrivati i RIS nella villetta rurale di Montodorisio. Possiamo andare a vedere insieme il servizio. I riscontri scientifici potrebbero risultare decisivi nella risoluzione del giallo della morte di Antonio Lizzi, 69 anni, pensionato ex operaio della SIV, oggi Pilkington, trovato legato magno e piedi senza vita la sera di domenica 4 febbraio sul pavimento dell'ingresso della sua abitazione rurale al numero 4 di Via Vecchia per Montodorisio. Sono arrivati da Roma gli uomini del RIS a caccia di tracce utili alle indagini coordinate dalla procura di Vasto. Nella tarda mattinata è stata effettuata una prima ispezione del luogo del delitto e un primo sopralluogo nel cortile e nelle pertinenze dell'abitazione. Ispezionato e scandagliato a fondo anche il furgone del pensionato, posto sotto sequestro e custodito all'interno della caserma dei carabinieri di Vasto. Il lavoro maggiore però è stato effettuato all'interno dell'abitazione. Lizzi, così come ha confermato l'autopsia, è morto per soffocamento indotto dalla compressione del torace. L'anatomo patologo Pietro Falco, che ha condotto l'esame all'ospedale di Chieti, ha trovato diverse costole rotte, segno di una morte violenta, oltre a materiale organico, oggetto di analisi del DNA per capire se sia dell'assassino. Anche da questi particolari potrebbero saltare fuori quindi indizi utili a ricostruire cosa sia realmente accaduto nella casetta di Monteodorisio. L'ipotesi è che l'uomo, che ha due figli ma viveva da solo, sia stato legato dopo la morte per simulare un furto. Il decesso del 69enne però sicuramente non è avvenuto domenica, ma molto probabilmente diverse ore prima rispetto al ritrovamento del cadavere dopo l'allarme lanciato da alcuni vicini. Notizia questa che ritroviamo anche nella pagina di Lancianova Stortona sul messaggero Antonio, ucciso sull'uscio di casa. Il titolo il RIS di Roma ha trovato le tracce di sangue dietro la porta, le avete viste dalle immagini. Al via le perizie sul furgoncino della vittima, durante il lungo sopralluogo dei carabinieri, il figlio Graziano assiste alle operazioni attesa per i risultati dell'autopsia. E poi dragaggio del porto di Ortona, il rompefebbo, non c'è uno studio di incidenza. Troviamo anche le elezioni di Giuseppe Antonio, si presenta, sarò il sindaco del territorio. Nel taglio basso, aggredito a scuola, giovane a processo. Notizia che arriva da Lanciano, lo scorso anno uno studente del De Giorgio fu picchiato e minacciato per motivi politici. Nella pagina invece che riguarda Chieti, voleva dargli una lezione, 13 anni di carcere a Donofrio, questo per quanto riguarda l'omicidio d'Aita. Per il Pilem Falasca si trattò di un'aggressione, il giovane e i suoi amici gelati dalla sentenza. L'avvocato di Loreto, la vittima, soffriva di un disturbo compulsivo ossessivo. E poi la grande colletta per gli eventi, in tanti dicono ok, dopo il comune di Chieti, pure San Giovanni Tetino, per la Tiberio è necessario. Nel taglio basso mi sono assopita, poi la caduta, bimba ricoverata in prognosi riservata, il dramma della mamma. L'episodio è avvenuto mentre la mamma stava dando del latte alla bambina. Andiamo a vedere adesso la pagina di Teramo, sempre sul messaggero. In apertura, ASL, Salasso per acqua, luce e gas, nuovo ospedale per risparmiare. Nel 2017 spesi 4,5 milioni di euro per le vecchie strutture di telefoni. Soluzione, unificare le voci di spesa spingendo sull'efficienza energetica. Il funzionario Cimini punta il dito contro l'accordo con SIP e privati, lavoro fatto non a regola d'arte. Nel taglio basso, crack ex terca, Sinaula, chi ci ha guadagnato e chi no. L'ex dipendente, niente bonus o querelato, l'imprenditore, interesse al 3%, un riconoscimento. E poi nella pagina della provincia nasce l'associazione Progetto Giulia, torna in ballo l'ex assessore al bilancio Katia Verdecchia, porta con sé il consigliere Ranni e il delegato all'urbanistica Fabio Ruffini. Quasi certa la trasformazione in civica alle comunali, il Presidente, ascoltiamo, il grido di dolore della città. Sempre da Giulianova, assalto dei vandali al Parco Franchi, derubata anche l'addetta alle pulizie. Nel taglio basso, invece, accoltella 22 volte il rivale in amore e poi cerca di scappare nelle campagne. La donna è una romena di 39 anni con quattro figli, anche lei è stata pestata. Questo per quanto riguarda l'aggressione di Corropoli. Possiamo andare a vedere anche questo servizio. Sette coltellate tra addome, zona del cuore e collo. Ha sfogato così la sua rabbia e la sua gelosia nella maniera più violenta. Adrian Jacob, 33 anni, romeno, convivente della donna al centro di questa presunta contesa amorosa. Una 39enne madre di quattro figli con la quale la vittima dell'aggressione, 44 anni, di nazionalità romena, aveva avuto una relazione sentimentale in passato. L'uomo ora si trova ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo dopo essere stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni, seppur stazionare, vengono definite gravissime dai medici. Jacob, invece, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. La vittima dell'accoltellamento ieri sera ha chiesto di poter vedere la ex fidanzata. La donna è uscita di casa per incontrarlo, ma Jacob, insospettito, ha deciso di seguirla. Il 33enne, una volta accertatosi dell'incontro tra i due ex fidanzati, ha fatto esplodere la sua rabbia, sferrando da primo un pugno alla donna e facendole cadere alcuni denti, poi estraendo un coltello che ha vibrato contro il 44enne che ha avuto la peggio. La vicenda si è verificata attorno alle 20, in una zona non distante dal depuratore di Corropoli. Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando provinciale di Teramo e della stazione di Corropoli, oltre al 118 che ha soccorso l'accoltellato e la donna, nel frattempo ricoverata Giulianova. Jacob per alcune ore ha cercato protezione a casa di un connazionale, entrando ancora con il coltello in mano sporco di sangue. L'uomo però lo ha invitato ad andarsene gettando l'arma bianca dalla finestra. Nel frattempo i carabinieri che si erano messi sulle tracce del fuggiasco lo hanno arrestato un paio di ore più tardi, mentre cercava di scavalcare una recinzione. Aveva gli abiti sporchi di sangue, ma ha continuato a negare ogni addebito. Notizia questa che troviamo in apertura della pagina di Teramo sul centro. Tentato omicidio a Corropoli, colpito per gelosia con sette coltellate. Incontra la ex, il nuovo compagno di lei la segue e le aggredisce l'arresto del fuggitivo agevolato dalla comunità romena che ha collaborato con le forze dell'ordine. E poi il ferito si è svegliato, decisivi medici di Teramo e Santomero. Il sindaco De Annuntis, episodi rari ma comunque preoccupanti. Questo è il commento da Corropoli. A Giulianova nel taglio basso, va dalla polizia con la droga in tasca, arrestato un sessantenne. E poi il forum del centro sulla ricostruzione. La ricostruzione ferma, ritardi sconfortanti. Costruttori e ordini professionali denunciano pratiche bloccate da cavigli burocratici. Nel taglio basso, forte risparmio se si sbloccano i progetti. Polsini dell'Aniem, facendo rientrare gli sfollati, non si spendono soldi per l'autonoma sistemazione. Andiamo a vedere le pagine di Teramo sulla città. Coltellate per gelosia, tornando al tentato omicidio di Corropoli. Aggressore condannato dai connazionali, isolato dalla comunità romena. Finisce in manette il 33enne che ha sferrato sette fendenti al petto del rivale in amore. Poi la politica, la Corneli sarà la primorolevole rosetana. La capolista al proporzionale della Camera del Movimento 5 Stelle ha praticamente già il seggio in tasca. Pienone alla polifunzionale per noi con l'Italia. Quagliariello, Chiodi, Sottaneglie e Di Dalmazio torneremo classe dirigente anche a Teramo in regione. E poi la politica del Lampione ha collaterrato. I nuovi punti luce malfunzionanti del progetto Paride diventano terreno di scontro elettorale tra Cordoni e Corona. Ancora avanti. Campitelli contestato dagli ultra del Teramo. Per 16 gradoni non è una questione di risultati della squadra, ma di rapporti umani con il Presidente. Andiamo ancora avanti nella pagina di Giulianova Mosciano. La Pagliaccetti risorgerà lì dov'è. Per il Sindaco il problema del terreno cedevole può essere superato. 2,4 milioni di euro. Il Sindaco conta di mettere assieme metà spesa da un mutuo appena acceso e l'altra dalle alienazioni. Prima volta a Roseto. D'Alfonso prende tre impegni in casa Ginobile. Patto istituzionale per risolvere i problemi del distretto sanitario, dell'autoporto e dell'Ido, la lucciola pontile. Il Governatore annuncia fondi per la compartecipazione delle spese di ristrutturazione, ma per il momento è solo un impegno di spesa. Prima di passare alla pagina dello sport, torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo nella pagina dell'Aquila e qui in primo piano troviamo il femminicidio di Carsoli. Badanto Cisa spunta un super testimone. Ha raccontato di aver visto il muratore entrare nella casa. Le motivazioni dell'arresto, indole violenta e pericolo di fuga. Possiamo andare a vedere anche questo servizio. Allora abbiamo qualche problema per la messa in onda del servizio. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Nel frattempo andiamo avanti. Precipita dalla scala grave un operaio, sempre sulla pagina dell'Aquila. L'uomo stava lavorando in un cantiere dove sono in corso opere di restauro. E poi nel taglio basso al dio Alvecio che vinse il gelo in Russia. Scurcola, l'Alpino Rossi è morto a 95 anni. Era l'ultimo soldato marsicano sopravvissuto alla ritirata. Andiamo a vedere la pagina dell'Aquila sul messaggero. Meno tasse per le imprese, le famiglie devono attendere riduzione immediata solo per aziende e per utenze considerate non domestiche. Per i nuclei le aliquote restano invariate. Chiarita anche la questione delle pertinenze. Il primo cittadino e l'assessore Di Stefano hanno rivelato che ci sono 1,5 milioni di tributi non versati. E poi nel sindaco Biondi il salone del Massimo resterà un cinema per i temi legati alla ricostruzione. Nel taglio basso l'indagine fondi per la casa ma è affittata, va a processo. Nei guai una commercialista che aveva anche percepito il contributo di autonoma sistemazione. Proseguiamo sempre nelle pagine dell'Aquila. Pronto soccorso pediatrico, numeri record, l'influenza, aumentato il totale degli accessi giornalieri. In media 40-50 visite, in un anno la cifra sale a quota 8 mila. La struttura si conferma un importante punto di riferimento. Il direttore Verrotti non bisogna sottovalutare i primi sintomi. E poi nella pagina di Avezzano sul Mona il romeno nega tutto e fa scena muta, illegale e innocente. Il presunto omicida della badante si chiude in un ostinato silenzio. Si va verso un confronto sulle prove finora raccolte. Decisivo l'intervento del RIS che esaminò le tracce di sangue. Vediamo se riusciamo a mandare in onda il servizio. Chiedo alla regia se è possibile. Il testito si è avvalso dalla facoltà di non rispondere, pure perché aveva chiaramente ricostruito la vicenda già nei precedenti atti e quindi era inutile aggiungere altre cose. Adesso siamo in attesa di impugnare l'ordinanza di custodia cautelare al tribunale del RIS e vedremo che cosa succede. Si parla di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del suo assistito? Siamo in attesa di impugnare l'ordinanza. In questo momento meno se ne parla di questa vicenda è meglio. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano. Lui, Andrei Feru, di 52 anni, secondo l'accusa, avrebbe ucciso Iuliana Catalin Bucataru, di nazionalità romena anch'essa, e di 38 anni. Nelle maglie delle motivazioni il fastidio nutrito per un legame di stretta amicizia che la donna avrebbe avuto con un altro uomo di origini macedoni. Il muratore di origini romene è stato arrestato sabato mattina con l'accusa di omicidio volontario dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo. Inizialmente questo tragico evento si era risolto nella rubrica di un incidente fatale ma domestico. Successivamente però gli investigatori, attraverso anche indagini tecniche e tradizionali, hanno aperto doverosamente un'altra pagina di cronaca di diverso colore. Gli indizi di colpevolezza a carico dell'uomo sono gravi, univoci e concordanti. Adesso lo sport, andiamo sul centro per parlare del Pescara. Pescara serve uno scatto per raggiungere i play-off. L'attuale media punti non basta per centrare l'obiettivo, bisogna accelerare come nel 2015, quando i biancazzurri chiusero al settimo posto sfiorando la Serie A agli spareggi. Il prossimo avversario, Lentella, non ha mai vinto contro il Delfino. Poi rientra Falco, Proietti si ferma di nuovo, sabato a Chiava ritorneranno l'attaccante, Crescenzi e Coulibaly allarme invece per Balsano. Andiamo a vedere l'apertura dello sport sul messaggero, chiaramente anche qui si parla del Pescara. Pescara aspetta i gol di Bunino, il giovane di scuola Juve preso dall'Alessandria potrebbe fare molto comodo dopo le cessioni. Mi hanno paragonato a Immobile, dice ma andiamoci piano, devo ancora imparare tanto. Poi Proietti titolare a Chiavari dal primo minuto, scrive il messaggero che nel taglio basso mette anche il calcio a 5. a Quessapone e Pescara scaldano i motori, sabato pomeriggio si riparte i ragazzi di Tino Perez con la Luparense, il Delfino deve rimontare. Andiamo a vedere invece la Serie C con il Teramo. Teramo tutti a rapporto, stavolta c'è Campitelli, il patron ha incontrato la squadra assieme al mister e al DS Federico. Riscatto immediato e sarà presente a Salò. Non possiamo avere due facce. Restiamo a parlare del Teramo, andiamo a vedere il titolo del quotidiano Il Centro. Serie C, la crisi dei biancorossi. Federico, chiediamo scusa ai tifosi del Teramo. Il direttore sportivo, dobbiamo riflettere sul secondo tempo della gara contro la Fermana. Palladini farà le sue valutazioni, vogliamo una reazione immediata. Il patron Campitelli ci ripensa, sabato seguirà la squadra a Salò, ma gli ultralo attaccano di nuovo con un duro comunicato. Restiamo ancora al Teramo, andiamo a vedere il titolo della città. Il titolo eccolo qui. Federico, ora serve la soluzione. Il direttore sportivo unico autorizzato a parlare dopo il capitombolo di Fermo. A Salò serve il successo. La curva contro Campitelli ha dimostrato pochezza. E allora, andiamo a vedere insieme l'intervista a Sandro Federico realizzata da Jacopo Forcella. Direttore, io non so se a distanza di 48 ore, poco o meno, è passato più che altro lo stupore per quello che si è visto a Fermo da parte vostra. Sì, deve passare in fretta. Il più in fretta possibile. Siamo tornati anche ieri mattina proprio per analizzare i tanti errori, ma analizzare anche le cose positive perché sono state fatte cose molto positive in quel primo tempo. Però dobbiamo sbollire la rabbia e la rabbia deve essere trasformata in determinazione e non in delusione. Sembra quasi che a volte si spenga proprio la luce a tutta la squadra, non ad alcuni elementi. Ci possono essere tanti motivi e noi dobbiamo trovare la soluzione. È inutile stare lì e ogni volta ritirare fuori i problemi del passato perché se no non ne veniamo fuori. Quello che mi sono messo in testa, conoscendo la realtà, la piazza, è di riportare entusiasmo e non tornare ogni volta indietro negli episodi negativi. E continuerò a farlo con grande volontà perché questa squadra deve guardare al presente, l'immediato presente e al futuro perché se no ogni volta riemergono i fantasmi. Quindi questo non deve avvenire. Oggi è tornato al campo anche il presidente Campitelli, c'è stato un confronto, ecco che cosa è venuto fuori, qual è stata la reazione del presidente e anche la risposta della squadra a questo punto, se c'è stato. Il presidente è arrivato per caricare la squadra, per dire proprio questo. Gli errori commessi sabato non si devono assolutamente ripetere perché lui ha grande fiducia in questo organico, perché ha voglia di programmare, ha voglia di voltare pagina. Trasmette una carica incredibile e sta facendo grandissimi sacrifici perché vi posso garantire che non è facile rispettare sempre le scadenze senza aver mai preso comunque punti di penalizzazione e tornare al campo dopo sconfitte di questo tipo e tornare per caricare la squadra. Quindi la squadra recepisce la vicinanza del presidente e infatti verrà con noi a Salò perché vuole stare vicino alla squadra ed è carico come non mai. L'ultima, sinceramente c'è un po' di paura di non farcela, salvarsi? Se hai paura non vai da nessuna parte, non puoi affrontare niente nella vita, figuriamoci nel calcio. Ne ho vissute tante nella mia carriera da calciatore, da dirigente e ogni post sconfitta so bene che la delusione deve subito essere superata e pensare alla partita successiva perché c'è sempre, fortunatamente, la possibilità di riprendersi e Salò sarà una di queste possibilità. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina. Mattino 6 torna domani alle ore 8. La nostra informazione è alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. Vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.